All'epoca della sua inaugurazione nel 1965, Edellandia fu il primo parco giochi tematizzato d'Europa, ispirato alla celebre Disneyland californiana e collocato accanto allo zoo cittadino che sin dal 1949 accoglieva visitatori e studiosi. Entrambe le strutture sono oggi in serie difficoltà economiche e rischiano la chiusura per fallimento. Un ambizioso progetto del comune di Napoli punta al rilancio dell'intero complesso, che include anche il cinodromo per un'area totale di 138 mila metri quadri. In questi spazi nascerà un grande parco giochi di nuova concezione che tuttavia preserverà alcune delle giostrine storiche di Edenlandia. Ci sono investitori interessati a questo progetto, spiega Marco Esposito, assessore allo sviluppo, e la mostra ad oltremare, proprietaria dei suoli, lancerà un bando internazionale per la gestione del nuovo parco. Immagino poi, prosegue Esposito, che nella nuova struttura occorreranno più dei 70 lavoratori attualmente impiegati, per i quali chiederemo in ogni caso la piena tutela. Il nuovo parco potrebbe aprire entro il 2015, quando Edenlandia festeggerà i suoi 50 anni di attività.